Allora, dopo questo percorso formativo mi è saperto praticamente un mondo. Io ho già un business, praticamente vendo viaggi in Thailandia, faccio un servizio di consulenza per chi vuole per la prima volta viaggiare in Thailandia. Ho visto che attraverso questo corso ci sono delle competenze veramente specializzate e quindi soprattutto l'aspetto fondamentale secondo me è del personal brand. Tu devi costruire un brand personale, devi avere autorevolezza, devi avere un'onnipresenza digitale in tutti i campi, su Google, su Facebook, su YouTube, su Instagram, su LinkedIn. Solo attraverso il posizionamento e soprattutto il personal brand tu puoi arrivare a monetizzare perché altrimenti la gente non ti paga. Se non ha fiducia, non hai credibilità, tu non arrivi a questo percorso. Tu con questi strumenti pensi di poter essere pagato per quello che fai? Io sono sicuro di essere pagato. Ciao!